Petali. I libri in Francia sono come i petali diffusi a Recanati sulle vie il 22 di maggio a Santa Rita. Profumano, marciscono, disporcano, l'un nell'altro confusi, calpestati. È questa l'impressione da me avuta quando tornò dal viaggio premio a Tour, Luisa che lì amava un africano. Mi sembrò di vederla in libreria, a macchiarsi le dita di quel polline. Due di Prevert e due della Sagan, gli americani, tanti e mal tradotti, in ogni caso il postino che suona e fate presto, altrimenti appassiscono.